buongiorno ad abitivo news oggi 18 marzo san cirillo oggi anche la giornata mondiale del riciclo istituita nel 2018 dalla global recycling foundation la giornata è nata per celebrare l'importanza del riciclo e sensibilizzare i cittadini e istituzioni sulla stella ambientale l'obiettivo finanziare programmi educativi e sensibilizzazione e iniziative di innovazione incentrate sullo sviluppo sostenibile e inclusivo del riciclo in tutto il mondo secondo le stime della fondazione si prevede che il riciclo consentirà di risparmiare oltre un miliardo di tonnellate di emissioni di co2 entro il 2030 inoltre oggi si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus la giornata è stata istituita formalmente il 17 marzo 2021 con l'approvazione all'unanimità della relativa legge da parte della commissione affari istituzionali del senato l'unita in sede deliberante